Possiamo dire di Margherita De Pieri che è una bambina e questo tecnicamente l'assolve da qualunque colpa nel senso che disegna, balla, esiste, urla, dipinge, suona il pianoforte ma è nata nel 1998, ha chiuso il millennio e quindi ha 24 anni e ha un certo ardimento a mostrare a me le sue opere perché io le commenti e io quindi non potrò che assolverla da qualunque colpa perché in lei c'è la volontà di esprimersi così come fa un ragazzo come fa un bambino quando gioca il suo è il gioco dell'arte certo che la coscienza della ricerca artistica, della letteratura, della musica musica, vibrazione, colore, emozione sono sicuramente una urgenza, un'esigenza poi guardando l'opera tu ti aspetti di vedere quello che lei farà in malinconia intima mostra un esercizio e una certa abilità manuale in altre opere invece esprime qualcosa di più immediato quindi con una pittura che ha gestualità, che ha immediatezza che non ha una forma chiusa e quindi non posso dare un giudizio definitivo sarebbe sbagliato giudicare una giovane artista che ha 22 anni o 24 anni però si capisce che la sua esperienza è autentica per cui mentre le auguro di continuare e di migliorare e di trovare sempre di più modelli a cui affidarsi dico che mi sembra che lei esprima una sua verità necessaria e che quindi meriti di essere guardata grazie a tutti grazie a tutti